Iniziativa importante quest'oggi a Roccella Ionica, organizzata dall'amministrazione comunale assieme alla Croce Rossa italiana. Due categorie di soggetti saranno vaccinati, si tratta di pazienti estremamente vulnerabili con deficit statico dinamico, non trasportabili con i normali mezzi che riceveranno dunque il vaccino a domicilio, e poi pazienti vulnerabili che presentano un'evidente difficoltà di recarsi presso i punti vaccinali distrettuali di riferimento, che saranno vaccinati nel punto allestito presso l'auditorium comunale, come si vede dalle immagini che vi stiamo mostrando. I pazienti ovviamente sono stati tutti individuati dai medici di base che hanno attestato le suddette condizioni. E' un passo in più verso l'obiettivo, ovvero quello di dare una mano a tutti i cittadini, specialmente quelli più vulnerabili.